Buonasera, siamo qui con Giancarlo Comare nella quarta giornata. Ecco, ti volevo chiedere, innanzitutto tu hai esordito già nel 2008 con Pinocchio, sia come attore che ballerino. Successivamente è stato tutto un crescendo, sei spuntato anche su Scama Italia, dove lì ti hanno conosciuto tutti i ragazzi. Con Dio ci aiuti, soprattutto con Don Matteo, ecco. Questo è il primo film che fai da protagonista, parliamo appunto di Maschile Singolare. Qual è stata la tua reazione quando ti ha annunciato questo ruolo in questo tuo film? Beh, intanto sono felice che tu sia partita proprio da quando andavo a scuola al liceo, perché la prima cosa che hai nominato era una rappresentazione di uno spettacolo che facevamo mentre io stavo al liceo. Ecco, quindi proprio si parla dell'inizio, il principio. Beh, sono stato molto contento di ricevere la sceneggiatura di Maschile Singolare, perché è un film che parla di un tema importantissimo ed è la ragione per cui io ho scelto di fare questo film. A parte, insomma, tutte le tematiche che ci sono all'interno, la macro storia, diciamo, il macro tema è la scoperta di se stessi, il viaggio che una persona fa per scoprirsi e per imparare ad amarsi, che è una cosa importantissima. e quindi quando è arrivata questa sceneggiatura sono stato felicissimo di riceverla, ma anche perché era la prima volta che, insomma, io ricevevo una chiamata da persone che volevano avermi nel film. Quindi non è avvenuta la classica cosa, no, sai, vai a fare il provino, vieni selezionato per il, diciamo, una sorta di provino. L'ho fatto comunque, ma era un'occasione diversa, quindi mi sono sentito anche onorato, no, di ricevere questa richiesta, ecco. Ecco, appunto, tu già dal 2008 sei attore, praticamente. Come fai a bilanciare la tua vita sia a livello sociale che sia appunto lavorativo? Bella domanda. Ci sto provando, ci provo tutti i giorni, non è facile, ovviamente. Diciamo che da qualche anno a questa parte la mia vita è completamente cambiata. All'inizio non è stato semplice adattarsi, perché comunque in qualche modo siamo animali, no? Quindi poi quando ci si scombussolano i ritmi, quando, insomma, la tua comfort zone, no, viene un po', è sbilanciata, ti trovi un po' così. Però devo dire che, ecco, col passare del tempo sono riuscito a mischiarmi, a fondermi con quello che adesso è la mia vita. E quindi ormai direi che è la mia vita, quindi non c'è un, come dire, delle cose divise. Fa parte di quello che vivo e va bene così. Ecco, tornando in maschile singolare, tu interpreti comunque un ragazzo con una sessualità che è in contrasto con la tua. Come è stato, appunto, interpretare questa situazione? Guarda, semplicissimo. È il mio lavoro e poi si tratta di rappresentare una storia, è la storia di un personaggio, quindi da questo punto di vista nessuna difficoltà. Ok, qual è stata allora qualche difficoltà che hai riscontrato? Le difficoltà ci sono a livello tecnico, perché comunque sia, a parte che noi maschile l'abbiamo girato in 18 giorni, e io nel frattempo stavo anche lavorando su altri set, quindi parlerei più di quel tipo di difficoltà che appunto, insomma, mi vedevano il pomeriggio su un set, la mattina su un altro, la sera, la notte su un altro ancora e quindi forse la difficoltà era mantenere la lucidità e mantenersi svegli, quindi sono andato avanti con un po' di caffè e poi ce l'abbiamo fatta, ecco. Soprattutto penso gestire tutti i ruoli, no? Perché giustamente la mattina un ruolo, la sera un altro, giustamente è complicato. Sì, sì, è complicato, questo è vero. Se parti, insomma, da una buona base dove si spera che tu abbia studiato prima di arrivare su un set, diciamo che ovviamente questa cosa mi ha aiutato perché avendo fatto tutto un percorso di studio io prima già sapevo quello che dovevo andare a fare, era solo, ecco, come ho detto prima, rimanere lucido e concentrarsi sul qui e ora, su quello che si sta facendo qui e ora. Però è anche bello così, cioè io mi sono, nonostante fossi stanco, mi sono divertito tantissimo, mi auguro nella vita, insomma, di avere di questi periodi sempre di più. Qual è il prossimo obiettivo? A cosa stai puntando adesso? Ma, obiettivi ce ne sono tanti. In questo momento, come ho anche rivelato altre volte, mi piacerebbe in futuro, un giorno, chissà quando, poter realizzare un progetto che al momento si chiama, io la idealizzo come città d'arte, poi chissà quale nome prenderà, però appunto è un luogo, l'intento sarebbe quello di creare un luogo dove un punto di incontro, un punto di riferimento, di connessioni tra artisti che possano, dove possono venire per ricevere un po' quell'aiuto che manca per poter realizzare la propria arte con il fine di appunto realizzare arte il più possibile perché sono convinto che l'arte crea empatia e sono fortunato a fare questo lavoro perché proprio facendo questo lavoro ho potuto, cioè sono potuto crescere da questo punto di vista e mi sono reso conto che negli anni ho sviluppato questa, l'empatia, cioè si è sviluppata sempre di più e oggi ho la fortuna di guardare le persone con cui mi confronto e riuscire a, a parte i ruoli che interpreto, immedesimarmi, no? In quella persona, quindi cioè ognuno di noi vive la propria battaglia, no? E a volte ad un pugno rispondiamo con un pugno, invece questo aiuta, può aiutare a rispondere con una carezza piuttosto che con un pugno, no? Perché appunto se riusciamo a capire chi ci sta davanti a immedesimarci nei panni di qualcun altro, credo fermamente, poi può essere anche un'utopia questa, però credo fermamente che grazie a questo la violenza possa diminuire tra gli esseri umani, quindi mi auguro di poter ecco creare questo canale che possa portare più arte possibile nel mondo per chissà magari un giorno, no? Eh, sviluppare più arte e meno violenza, ecco mi viene da dire questo. Allora te lo auguriamo, grazie mille. Grazie a te, a voi.